Enzo Carone, regista, il 21 ci sarà questa partita, questa amichevole di calcio tra gli sindaci, gli amministratori della provincia di Vibbo e una selezione di artisti professionisti. Più che una partita sarà una festa, tutta l'insegna dell'Avis e per sensibilizzare la donazione. Sarà una grande festa come dicevo che vedrà in campo in una partita appunto i sindaci con artisti e professionisti della provincia di Vibbo e non. Che dire che l'organizzazione ci ha sbalordito perché prima erano in pochi, però man mano che si è diffusa la voce di questa partita, di questo incontro, di questa festa, tanti sindaci si sono poi uniti, aggregati a noi e non vi nascondo che anche fino a poco fa hanno chiesto la collaborazione altri sindaci. Niente che dire, tutta l'insegna del divertimento, poi vedremo poi dall'altra parte degli artisti vedremo pure gente ex calciatori, ci saranno comunque avvocati, architetti, cabarettisti, attori e poi il tutto sarà anche allietato dalla presenza di ragazzi. Abbiamo dei ragazzi che anticiperanno l'incontro di calcio dei Big, che sono della scuola calcio della Vibbonese, dei Bulldog Vibbo e una rappresentativa pure di ragazzi di tropea. Oltre a questo ci sarà anche una presenza femminile o meglio delle cheerleader di una scuola di danza di tropea. Quindi che dire, ci sarà una grande festa e sarete tutti invitati il 21 settembre alle 16 allo stadio Luigi Razza di Vibbo Valencia. E quindi siete tutti invitati presso lo stadio Luigi Razza di Vibbo Valencia il 21 settembre alle 16 e ingresso gratuito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.